Ciao a tutti, siamo qui per annunciarvi la quarta edizione del Mufra Jazz Fest. Finalmente, dopo tanti sforzi, anche quest'anno tornerà il jazz a riempire di musica e bellezza il nostro territorio, il Moferrato. Partiamo con l'anteprima, tutta a giugno, per festeggiare un po' quello che sono le date fondative del nostro festival, che sono la festa della musica e il compleanno unesco, che le anticipiamo di qualche giorno, il 19 e il 20 giugno. Con le date praticamente dedicate a alcuni dei simboli del nostro territorio, uno è il fiume, quindi non poteva mancare il concerto all'alba, ma sicuramente faremo anche il concerto al tramonto, e poi il concerto del bosco. Tantissimi appuntamenti sul sito mongetfest.it, trovate tutte le informazioni, potete prenotare i posti, sono tutti gratuiti, ci sono anche delle gustosi aperitivi, merende, colazioni abbinate ad ogni concerto, quindi insomma c'è proprio da divertirsi e gioire insieme tutti quanti. Tra le novità è qua vicino a me una delle novità più belle di quest'anno, che sono come dire una ventata di gioventù all'interno del nostro staff, del festival e degli artisti, capitanata da quello che è diventato dopo tre anni di lavoro il nostro direttore artistico Riccardo Marchese. Ciao a tutti, Ima e i collaboratori di Ima mi hanno proposto appunto di ricoprire questa carica, di grande responsabilità, quindi vi ringrazio, mi fa molto piacere, come potete vedere ho accettato. Quindi ho pensato appunto insieme a Ima e agli altri collaboratori di portare un po' di gioventù, di freschezza, in questo festival jazz, jazz è la musica della libertà di espressione, della perseveranza nel raggiungimento di un obiettivo, della libertà di pensiero, quindi chi meglio dei giovani per rappresentare queste fantastiche qualità che ha la musica jazz. Quindi se verrete al Mufra Jazz Festival a partire da giugno e poi a settembre, potrete gustarvi una serie di concerti meravigliosi di artisti provenienti da tutta Italia, Napoli, Siena, Roma, ci sarà Molise, ci saranno veramente un sacco di culture diverse. Lombardia, bene, Toto, ma abbiamo un sacco di giovani, di vecchie glorie, di grandi artisti che vi potranno alietare con la loro arte. Per partire quindi sabato 19 alle ore 19 sul Po aperitivo con concerto al tramonto, in collaborazione con l'Associazione Amici del Po, per chi vuole c'è anche la possibilità di fare la gita in barca, con Aura Nebbiolo Quartet, fantastico quartetto che ci alieterà con lo swing tipico del Novecento americano, con un programma dedicato a Gershwin, insomma molto 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 godibile. La mattina, all'alba sul Po, con la colazione tipica monferrina, cioè pane, salame e caffè, avremo invece un'atmosfera tipo un po' cioccolà, un trio gipsi che insomma ci farà innamorare, ci farà proprio godere questo momento di relax lungo il nostro grande fiume. E poi chiudiamo questo piccolo anteprima con il concetto del bosco. Il bosco per il Monferrato casalese è proprio una dinamica del nostro territorio, a cui noi siamo particolarmente affezionati, è diventato uno dei appuntamenti simbolo del festival e lo facciamo a Dora Lengo Grande, dove c'è stato questo recupero negli anni dell'eremo, che era stato praticamente un po' abbandonato, inghiottito dal bosco, adesso è tutto raggiungibile, pulito, e insomma è molto particolare come location e lì ci sarà Gusella che solo, che con vibrafono, insomma, farà un concerto magico, ecco, insomma, quello che credo che sia la parola migliore per definirlo. Quindi noi vi aspettiamo, www.monjetsfest.it, trovate tutte le informazioni, tutti i link per prenotare, tutto gratuito, venite soltanto armati di tanta libertà. Ciao a tutti! Seguiteci sui social Facebook e Instagram, siamo attivi anche sui social, quindi seguiteci lì. Ciao!